è l'ultima volta che te lo chiedo dimmi cosa significa te l'ho detto non lo sappiamo devi domandarlo all'asos come ha detto che l'azio si è morto e fra un minuto glielo domanderete persona levati vorrei parlarti per un attimo come se come come se parlassi a mia moglie morta un mese questa forza è durata fin troppo adesso basta è il momento di parlare chiaramente l'affare dovete farlo con me l'agenzia mi ha impedito di dirtelo spero tu capisca e teniamo sotto controllo da parecchio marlis sapevamo che avresti abboccato con l'esca giusta lasciala perdere quella è solamente un diversivo sai chi è la mente del colpo di ginevra e del furto dei gioielli a praga e chi ha fatto fuori il vecchio wolf a town con io amico perciò lascia la puledra e parliamo d'affari affari a fari poledra esattamente affari e la soluzione del puzzle sta qui dentro quindi se la vuoi devi venire a prenderla da me prima gli affari poi il divertimento perciò pensiamo agli affari amore no basilica dose 12 non mi ha detto altro mi ha dato quella palla di neve basilica dose non mi ha detto altro giuro e ha detto grazie tanti amico segrete stavolta ma d'ammazza comunque ti prego perdonami ti amo moltissimo show anch'io ti amo ma 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 che accendenti fate smettetela forza su ora mollo lo freno molto bene da un'accelerata